Nella sola provincia di Teramo sono oltre 200 gli addetti del trasporto scolastico senza stipendio a causa dello stop e delle lezioni in presenza nelle scuole e la conseguente interruzione dell'attività di trasporto degli alunni. I lavoratori addetti agli scuolabus sono rimasti a casa senza lavoro, senza stipendio e senza ammortizzatori sociali. Per questo motivo la Filt CGL, questa volta con un sit-in sotto la prefettura di Teramo, è tornata a chiedere un intervento risolutivo e immediato agli enti preposti. A distanza di un mese della nostra prima denuncia ad oggi nulla è cambiato. Gli autisti e assistenti degli scuolabus sono a casa senza lavoro, senza stipendio, senza contributi e senza la possibilità di accedere alla cassa integrazione. Tutto questo a causa del contratto che loro fanno annualmente? Sì, purtroppo molte aziende applicano il contratto stop and go a seconda dell'apertura dell'anno scolastico e la chiusura del periodo natalizio. Questo in pratica ha scaturito che con la legge di bilancio del 2020, a causa di un vincolo introdotto su questa legge, in pratica non possono accedere alla cassa integrazione perché non sono lavoratori assunti al 4 di gennaio 2021, così come prevedeva la legge. Naturalmente non poteva essere così perché la scuola riapre il 7 e quindi i lavoratori sono stati assunti dal 7 di gennaio. Per soli tre giorni i lavoratori resteranno senza la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali e senza stipendio. Questo riguarda i 200 lavoratori della provincia di Teramo, ma riguarda l'intero Abruzzo e l'intero paese. Ma io credo che non riguardi solamente i lavoratori del trasporto scolastico. Io credo che ci sono tante altre categorie che applicano purtroppo questi contratti stop and go. E quindi tutti i lavoratori sono lavoratori precari che prendono 500-600 euro al mese e si ritroveranno nemmeno con quelle piccole risorse per poter vivere.